Eccoci qui ragazzi, sono Goldrake e come detto ragazzi siamo qui in un nuovissimo LTS Raga ho visto che l'LTS che ho portato martedì vi è piaciuto veramente tanto E ora siamo qui con un nuovo LTS Allora fatemi vedere le impostazioni dell'audio, ok vanno benissimo Quindi benvenuti nell'LTS che ho creato io raga Ed è Deathbike vs Impaler Allora qua stiamo... no 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 cosa stai facendo Via 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 raga io scappo eh io scappo ok Dovrebbe... oh no 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 non ci credo non ci credo però siamo ancora vivi No no Tommy Tommy intanto ringrazio tutti quelli che sono entrati raga Grazie a tutti... mannaggia ingret lo sapevo eh lo sapevo che mi faceva esplodere la moto ingret mannaggia a te colpa tua Oh vieni qua vieni qua vieni 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 ingret oh mannaggia a te Mi trolla la volpe oh niente facciamo il giro tondo Oh vado a prendere l'altra vado a prendere l'altra gliela frego il mio... ah Tommy Tommy perdonami No ingret no mannaggia a lui raga colpa di ingret No raga mi ha ucciso mannaggia a lui mi ha ucciso raga ma poi ci vendichiamo con tutti Comunque penso sia un po' più facile forse per quelli con le moto non lo so però abbiamo perso incredibile Dunque round Ah no abbiamo vinto e abbiamo vinto Grandissimo Castio che è arrivato alle armi stavo scherzando raga ho visto che moriva tipo l'ultimo compagno e invece no Comunque ringrazio tutti quelli che sono entrati sono entrati pochi perché non arrivano gli inviti Tim Gret, Leo, Raffi, Vale, Castio, Tommy, io, Bella Stefi e Marco con Alessio Manca solo un gret che mi voleva trollare mannaggia a lui adesso deve ucciderlo Ok no Sì ok sì L'ho ucciso dunque round Vincitore prossimo round Ok ragazzi ora abbiamo le nostre impaler Prendiamo quella bianca dai va bene mamma mia sempre la maschera oh Ma dov'è la maschera della volpe si prende la vacanza cos'è? Non sto facendo la maschera della volpe Ok 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 Allora intanto no 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 non trollatemi non trollatemi Dobbiamo uccidere i nostri avversari Allora intanto No stavo dicendo uccidiamo Raffi ma non ce l'abbiamo praticamente fatta Ok Voi l'abbiamo arato Raffi No stanno andando stanno andando Girati impaler Impaler Ma dove vai impaler? Dove vai? Ma non si gira più Non si gira l'impaler raga Non si gira più Eh raga vedete L'unico problema probabilmente della macchina è questo Che se sopra ci sono le moto è un po' complicato Perché qua vedete che è facilissimo poi trollarsi con la macchina Soprattutto se non è una macchina super super potente Però in questo caso ne mancano due Ne mancano Non ci credo raga non ci sono arrivato No no arateli arateli vi prego Arateli raga vi prego Arateli vi prego Arateli raga No arriva le armi Se arriva le armi eh Se arrivano le armi è finita Eh è arrivato le armi È arrivato le armi Leo Io ho fatto una kill Ho fatto quello che potevo raga E adesso però ci arano Adesso ci arano Era abbastanza Dai non è troppo squilibrato E mannaggia Oh Perché non Ah ok niente due colpi due colpi Mi ha ucciso Vale Mannaggia Vale Adesso lo trolliamo noi Ovviamente penso poi di rifare altri due round raga Perché non dura poi Così tanto Era meglio in di più Ma sono bagati gli inviti Round perdente Prossimo round Terzo round E la volpe raga non c'ha la maschera È smarrita questa volpe Ok Vai vai Oh adesso No no rosa no 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 Rosa no Ok bella Marco Grandissimo e bella anche Alessio Abbiamo la death bike stavolta Abbiamo la death bike Allora Eh Ok Vedo che qualcuno là È un po' incastrato Ok dobbiamo aspettare un attimo Ok 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 Allora aspettate un attimo Chi è Ok I'm great Ok Bravo male Bravo Andiamo 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 Veloci 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 Andate andate raga No sempre Sempre Castio che blocca eh Mannaggia lui Ok 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 allora aspettate che tolgo il telefono Vai vai Veloce Andale Andale traffico Andale Ok 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 Adesso Forse Riesco ad andare No 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 O forse no No raga ma vedete che lo fanno apposta Mannaggia me Oh vogliono beccare solo me È incredibile Adesso io li frego tutti Chi è dietro Raffi Mannaggia te Raffi eh Mi volete fregare tutti Guarda lì Ok no 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 Non mi vuoi fregare vero Non mi vuoi fregare No No tu non mi vuoi fregare Ok 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 Intanto io li distraggo a Castio Vai Castio So già che è tuo Ci sono anch'io Castio Vieni qua No 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 si 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 No la volpe si è sentita male Si è sentita male Che succede volpe Che sono No mi frega le kill Mi frega le kill Mi frega le kill Mi frega le kill Oh entri No non vuole entrare Entra 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 Esci 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 Entra 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 Esci 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 Oh è già partito È già partito Fermo Fermo le mie kill 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 Voglio io Le voglio io Le voglio io Le voglio io Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Una ce l'ho Una ce l'ho Le altre Dove sono gli altri Quanti ne mancano Due ne mancano Leo Leo E eccolo Cosa ci fa Barcheggiato qua Che Un autogrill No no Voglio io Lo voglio io Lo voglio io E l'ha ucciso lui L'ha ucciso lui Dov'è l'altro È qua Ok No 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 Non è qua È l'altro raga L'abbiamo perso Alla ricerca di Vale Adesso Ok Oh Ah vabbè dai Bravo Castio Bravo Castio Ma comunque siamo arrivati Alle armi In un modo incredibile Adesso Riavviamo Vediamo Partita vincitore Riavviamo Altri due round Ok ragazzi Ho riavviato L'LTS Ho messo altri Due round E la Volpe Non c'ha la maschera Perché Volpe Mi fai questo Non posso neanche metterlo Quando sono in macchina Ma non c'è tempo Da perdere Non c'è tempo Da perdere Ok 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 Allora vai vai Venite 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 Vai vai È aperto È aperto al pubblico No 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 Raga Veniamo trollati Comunque vi ricordo Che in descrizione Trovate Tutti i link Che vi possono Servire Raffi Eh Raffi Eh Raffi No eh Eh no Raffi Eh no Raffi Ok 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 No 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 Raga c'è Castio C'è Castio C'è anche Vale C'è anche Vale Veloci Veloci No 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 È finita È finita Dove sono i miei compagni Tutti i miei compagni Sono trollati E adesso hanno ripreso Raffi ha ripreso la moto Sta cercando di citare Vale anche E qualcuno Ok no ok Allora aspettate Vediamo Vediamo se riusciamo a tenerli Sotto Sott'occhio Ok c'è un gret Ok un gret Allora Va trollato Il problema raga Sono gli altri Le altri con le moto Ok Ok Dai l'ho ucciso No no l'ho ucciso No parte un gret Adesso Parte un gret Lo sape No raga lo sapevo È difficile È difficile Ucciderli tutti È difficile raga È difficile Quindi ci uccideranno Ci uccideranno Come non so cosa Allora io vorrei fare una kill Eh no Non posso citare Perché mi vengono Queste strane idee raga Non possono Andiamo giù Se un gret Non mi uccide Io mi voglio prendere Una kill almeno Ok Allora vieni 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 Ok No 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 Ok aspettate No 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 È scorretto 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 È scorretto raga Mi hanno preso di mira Tutti che vogliono me Oggi la volpe viene trollata in continuazione Dunque round Perdente Prossimo round Ok ragazzi Ci risiamo Ora abbiamo le moto Abbiamo le nostre Death bike Prendiamo questa qua verde Ma si può mettere Non si può mettere Si deve scendere Si deve fare stile Si deve mettere la maschera Ditemi nei commenti Perché raga Mi continua a levare la maschera Che vorrei capire Intanto bella Tommy Ok grandissimo Tommy Ok andiamo 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 Non ci credo Non ci credo Aspettate raga Aspettate che c'è Qualcuno lì Vedo qualcuno Mi sa Si 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 Ok Ho paura raga Ho paura Non voglio scendere Ho paura raga Ho paura Allora aspettate Dobbiamo fare una cosa intelligente Allora tu Ok Ciao Guardale Io me ne vado Me ne vado Oh Cosa Cos'ha Raffi Dov'è Dov'è Raffi Ok raga ci siamo Allora aspettate un attimo Ok andiamo 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 Veloci 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 Ok Ok No guarda lì Dove ho messo la macchina Ok Devo passare per forza lì raga Devo passare per forza da lì Perché altrimenti diventa un problema con la macchina E qua è un bel problema Oh via 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 Cosa vuole Cosa vuole lei Patente libretto Ok via via Aspettate Oh Si 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 Zitti tutti Zitti tutti Zitti tutti Ok Ok vieni Raffi Raffi Lo sa Lo sa lui Vieni qua Raffi Vieni 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 Venga un po' Raffi Dottor Raffi Gamer Venga venga Stiamo qua Io sto qua eh Io non passo Io non passo Raffi eh Io non passo Abbiamo solo il piede di porco Oh guardalo come lo mette No no Raffi Mani nude Mani nude Raffi Raffi Ok raga un attimo di calma Si No No Perché mi hanno mazzolato Non è giusto raga Non è giusto Io voglio la rivincita Raga voglio la rivincita Partita perdente Riavviamo altri due round Ok ragazzi Ultimi due round Per vendetta Ma Ma Avete visto che voi Che c'aveva la volpe E poi scomparsa la maschera No raga non va bene Non va bene Non va bene Ecco perché vengo trollato Così facilmente raga Ecco perché Ma Ma come sono rimasti in due Chi è crashato No raga Ha crashato un avversario E almeno ci vendichiamo bene Con quelli Che sono rimasti Raga va bene Va bene Va bene Ci vendichiamo con Con Tommy E con Vale Ok vai 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 Andiamo aspettate Aspettate Ok Ok No È caduto È caduto È caduto È caduto Raga è caduto Aspettate dov'è 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 È caduto all'interno Sì Sta riprendendo la moto E adesso lo becco io E adesso lo becco io Con Tommy Adesso lo aro Ehi Tommy Come va Tommy Spero tutto No 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 Ok Vai riprendi la moto Senza paura Tommy Senza Oh Ma sta laggando Ma sta laggando Raffi me l'hanno già Bello che Arato Ok 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 Piano 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 Lo voglio io Tommy Lo voglio io Ok 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 Non lo voglio io Raga Tommy Ok L'ho preso io Prima vendetta Anche se loro sono di meno Dunque round Vincitore Prossimo round Ok ragazzi Siamo dalla parte delle moto Ora Adesso mettiamo una bella maschera Per non farci riconoscere Ok Adesso Non ci riconosce Più nessuno E adesso raga Il problema è come fare Allora Siamo arrivati in 6 Raga Andavamo tipo in 9 o 10 Oh Oh No raga Non è possibile No raga Non è possibile No raga Non è fattibile questa cosa Bella Raffi Bella Raffi Bella Raffi Bella No No Ho sbagliato Eh vabbè Vabbè Vado giù e poi viaro Vado giù e poi viaro Non è un problema Non è un problema Chi è qua in parte a me Ah no È sopra Ok vai Citta Citta tu Da dove possiamo con le moto Raga No Non cittare in quel modo però Non intendevo di suicidarsi Noi dobbiamo prenderci la nostra rivincita E anche se loro sono in di meno Perché sono in due Dobbiamo cercare Di farlo A tutti I costi Ok 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 Oh No eh Leoleo Leo 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 Lei voglio io Li voglio killare io Ok 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 bravo Leo bravo Uh Mi voleva trollare Leo Ok dai Leo Andiamo a prenderci la nostra rivincita Raga Andiamo a prendercela Comunque raga non arrivano gli inviti E io ho provato in tutti i modi ma non arrivano Non lo so perché prendo questo cromato Ok uno, due, e raffi E raffi preso E raffi preso, dov'è? Oh vieni qua, vieni qua, tu dove cerchi di scappare Tommy? Dove vai? Arati Preso la rivincita, la volpe c'è Dunque partita, vincitore Ragazzi io spero comunque con questo LTS In cui è successo veramente di tutto Vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like Iscrivetevi se non siete iscritti Attivate la campanellina E noi ci vediamo al prossimo video Bella